benvenuti ai nostri fan di radio non frontiere ci troviamo in una selva oscura andiamo a vedere cosa troviamo vi dirigo verso i studi nostri di radio non frontiere che sono appositamente ovattati dal buio andiamo a trovare i nostri conduttori buon anno da radio non frontiere ciao agli u buon anno a tutti buon anno da noi tutti buon anno